Siamo col tecnico del Borgo Valbelluna, Alessandro De Battista. Mister, si conclude il girone d'andata, qual è il primo bilancio di questa prima parte di stagione? Il bilancio è buono, abbiamo faticato un po' all'inizio a trovare l'amalgama giusta, abbiamo cambiato tantissimi giocatori dell'anno scorso, quindi insomma poteva essere anche quello il motivo, un po' ce lo siamo andati a cercare, abbiamo recuperato una compattezza di spogliatoio e di ambiente importante e ci ha consentito di chiudere bene il girone d'andata. Guardando proprio i risultati, balza all'occhio la sconfitta con il 90, il pareggio col QDP, tutte squadre che poi ci sono risultati abbordabili anche da altre formazioni. Qualche rimpianto per quel primo periodo? Insomma direi che rimpianti anche no, perché poi abbiamo fatto delle partite anche magari sopra le aspettative, quindi diciamo che alla fine del girone d'andata un po' tutto quello che si è ottenuto e la classifica che si è ottenuta è quello che si è fatto, quindi non sto tanto a recriminare. Adesso abbiamo l'occasione, sulla ripresa del campionato, di affrontare 90 e QDP dove abbiamo rivolto un punto all'andata e quindi insomma dobbiamo essere bravi a cercare di migliorare l'andamento del girone d'andata che insomma a parer mio il girone di ritorno per tutti è più complicato, più difficile, c'è una pausa di mezzo e quindi insomma se saremo bravi a ripartire forte allora vuol dire che ci siamo insomma. Si potrebbe dire da una vetta all'altra, lo scorso anno al giro di Boa in prima categoria se non sbaglio avevate 34 punti, anche quest'anno sopra i 30 siete secondi e vedete la Giulia alle spalle insomma. Sì, due campionati diversi però l'anno scorso eravamo già riusciti a quest'ora ad avere un vantaggio importante che poi abbiamo consolidato con un inizio di campionato con 5 vittorie su 5 mi pare e quindi insomma sì, erano anche diversi gli obiettivi. Ormai siamo concentrati su quello che è quest'anno, 30 punti è un buon girare, ricordiamoci che l'anno scorso comunque i punti erano 34 ma le squadre in girone erano 2 in meno quindi sì, si parla di 4 partite nell'arco della stagione in più quest'anno e quindi bisognerà fare più punti dell'anno scorso se vogliamo essere bravi insomma. Sul fronte del mercato l'acquisto di Sacajeva ha fatto parlare parecchio ma concentrandosi sui rientri beh c'è da che essere soddisfatti insomma Venturin, Caser, Onescu sono quasi ormai recuperati. Ormai ci siamo con noi quelli che amiamo lungo da gente Oddio, Venturin viene da un infortunio da marzo dell'anno scorso importante adesso sono passati 8 mesi, ha lavorato benissimo ormai è quasi ora di riprendere il ritmo partita Unescu è rimasto fuori due mesi, Caser anche però per infortuni diciamo sempre importanti ma molto più leggeri rispetto a quello di Venturin quindi ormai stanno recuperando loro De Mattia l'abbiamo usato il primo giorno, la prima partita a 90 poi l'abbiamo fatto fare 90 minuti l'ultima partita del campionato quindi girone andata sostanzialmente non l'abbiamo mai avuto a disposizione adesso con gli acquisti di Saccaieva e Denardi abbiamo completato anche la rosa dal punto di vista numerico oltre che qualitativo che era quello che cercavamo perché insomma noi dobbiamo ricordarci che non abbiamo una Juniors e quindi dobbiamo anche allestire una rosa che ci consenta di gestire degli allenamenti in una squadra di promozione di un certo tipo e quindi insomma sì le scelte adesso ci sono ed è bello che ci siano è bello soprattutto per i ragazzi che non iniziano tutti ad essere operativi Guardando in generale il girone la Giulia Sagittaria si conferma squadra da primissime posizioni come lo scorso anno ma come valuta questo girone di promozione? Senza dubbio equilibrato io ho un ricordo di due anni fa però visto che anche l'anno scorso era molto simile un campionato a 14 squadre dove tre squadre si erano staccate ma erano staccate anche dal punto di vista proprio della potenzialità quest'anno ho trovato molto più equilibrio c'è tutte le partite combattute la classifica vale fino a un certo punto perché comunque hai ricordato tu prima noi abbiamo perso 4-0 con il 90 che adesso ha meno punti di noi e meno punti di altre squadre quindi insomma sicuramente a livello alto quest'anno forse anche dato dal fatto che è stato tolto un fuori quota e quindi le squadre hanno più esperienza negli 11 Giulia forte, il Pago forte, Borgo forte, Carano squadra forte, Robenganese squadra forte ce ne sono tante di squadre forti ci sono tutte partite da combattere abbiamo detto che la classifica è giusta e quindi Borgo Valbelluna secondo che obiettivi avete per il ritorno? gli obiettivi nostri di spogliatorio, di società è una settimana che abbiamo tirato un po' le somme noi ce li siamo detti, ribaditi, ricordati anche perché non è mai da dimenticarsi quello che ci si dice d'estate crediamo di essere in linea con quello che ci siamo promessi però gli obiettivi nostri ce li teniamo per noi in spogliatorio e per la società nostra perfetto mister, siamo nel ben mezzo delle vacanze natalizie un augurio particolare rivolto a qualcuno? insomma gli auguri a tutti quelli che servono il calcio va bene, poi io li faccio qua giù all'ambiente all'ambiente di Borgo e Belluna perché ci sta veramente bene faccio gli auguri a tutti quelli che sono dietro le linee che magari si vedono meno ma senza di loro non si potrebbe far calcio non si potrebbe fare campionati o stagioni come stiamo facendo qua giù quindi un abbraccio va a loro e alla loro volontà e alla loro passione e con loro abbraccio tutti quelli che ci sono nelle società che magari ci si dimentica spesso di quanta fatica fanno e di quanta volontà ci mettano un saluto lo faccio anche al mio presidente che non c'è più però per noi è... per me è sempre presente ogni volta che io vengo al campo mi ricordo quello che ci siamo detti un anno e mezzo fa e tante volte l'energia me la dà lui io ve lo ricordo così insomma come una persona energica e un condottiero vero insomma dai grazie mister, buone feste grazie a tutti grazie a tutti